Sabato 20 giugno scadrà il bando per la gestione delle casere Camparona, Camparoneta, Balderoa e La Paola che sono di proprietà del comune di Alano e che si trovano sul massiccio del Monte Grappa. Purtroppo il Covid-19 ci ha portato a prendere delle scelte un po' difficoltose da parte del comune. Negli anni scorsi avevamo la gestione delle malghe che veniva data anche settimanalmente. Quest'anno purtroppo questa cosa non possiamo più farla per il semplice motivo che bisognerebbe fare la sanificazione ogni qualvolta che le persone o i gruppi vanno su. Per cui noi siamo stati obbligati a fare la scelta di dare in concessione per tre mesi anche queste malghe. Le malghe e le casere alanesi sono raggiungibili percorrendo la strada provinciale 10 che attualmente è interessata da importanti lavori di allargamento, sistemazione e consolidamento. Veneto Strade ci ha detto che per il 30 di giugno dovrebbe essere pronta. Una strada che è stata allargata, sistemata, consolidata, da anni voluta, personalmente anche da me lo dico, però è stata sistemata e qua devo veramente dirlo per la volontà e la forza che Serenella, il nostro sindaco, ha sempre portato avanti in provincia. È riuscita ad avere questo sostanzioso contributo che adesso appena ci sarà l'apertura andremo, non dico inaugurare, però possiamo vedere noi stessi come è andata la sistemazione del manto d'asfalto e il sostegno della strada.